Salve a tutti vediamo insieme quali sono i tre segni favoriti della settimana ed inizio dal terzo segno. Fatto al terzo posto ci sono i gemelli. Siete ancora fra i favoriti con mercurio nel segno non dovete eccedere ma riflettere su eventuali cambiamenti in ogni caso avrete opportunità che dovrete valutare bene anche se con il sole nel segno siete ottimisti e state ritrovando il buon umore che vi contraddistingue sempre. Seconda posizione c'è il cancro con martes e stile urano sarete più attivi più determinati anche con volontà di applicarvi in ciò che avete trascurato in precedenza e di prendere decisioni importanti sicuramente cose e situazioni che avrete rimandato e che siete decisi a portare a termine. Al primo posto il toro con venere nel suo domicilio che transita nel segno e con urano sarà una settimana di colpi di scena. Amori che nascono altri si consolidano molte le attività che vorrete intraprendere e novità che arrivano inaspettate. Sarà una settimana positiva da non trascurare perché sarà molto impegnativa ma produttiva. Grazie a tutti ci sentiamo la prossima settimana ciao a presto. 40 anni di esperienza rispetto condivisione 40 anni di grande umanità 40 anni di una professione che richiede assoluta correttezza astrologa cartomante ambra un contributo essenziale per dare risposte utili per ritrovare la tua serenità le parole hanno il potere di distruggere di creare quando le parole sono sincere gentili possono cambiare il mondo l'astrologia cartomanzia tutte le tecniche divinatorie possono aiutarti a ritrovare te stesso la tua strada astrologa cartomante ambra via fra palo sarpi 51 firenze 055 666 000 anche su facebook